ciao a tutti amici del geno anno tipico oggi questo video uscirà prima della gara con la fiorentina ed è un video che non era previsto ma che è venuto spontaneo dopo che ho letto le dichiarazioni del direttore sportivo della serenitana appena presentato walter sabatini prima di arrivare all'argomento però vi invito come al solito a iscrivervi al canale cliccare la campanella condividere il video mettere mi piace e commentare se volete ovviamente commentare detto questo andiamo bomba sull'argomento le dichiarazioni di cui parlo le ho prese dal sito di gianluca di marzio oltre vabbè alle classiche dichiarazioni sull'essere felice sul fatto che non è un trampolino di lancio e quant'altro le parole di walter sabatini che mi hanno colpito sono queste non voglio retrocedere perché questo non è mai successo nella mia carriera la situazione poco meno che tragica però sono certo che combatteremo fino all'ultimo voglio che la serenitana si salvi difendiamo assieme la serie a qualcuno forse mi ride dietro ma quando prendo un impegno lo porto avanti con successo magari dirette concorrenti pensano che siamo già retrocessi noi faremo le cose giuste e lo dimostreremo sul campo poi aggiunge che arriveranno due o tre colpi a breve e altre situazioni legate al calcio mercato senza andare nei dettagli di quello che penso sulla retrocessione della serenitana perché ho delle idee ben precise e se mi sbagliassi per una volta sarei quasi felice ma non tanto per noi quanto per altre di altri tipi di situazioni del quale magari parleremo a fine stagione ma quello che mi chiedo è se un direttore sportivo appena arrivato a mercato in corso quindi a circa 14 giorni dalla fine del mercato arriva ed è ultimo in classifica e dice di credere nella salvezza io mi chiedo perché alcuni genoani non ci vogliono credere perché stiamo stiamo già parlando anzi molti stanno già parlando da retrocessi come se una partita come la prossima come la prossima ancora del coludinese possano essere decisive quando ne mancano altre 16 15 quante quelle che sono e abbiamo un cinque punti sei punti adesso dal venezia ora vedremo come andrà stasera a firenze ma al momento sono sei quindi il mio ragionamento è presto è presto fatto io dico semplicemente perché qua se ci crede l'ultima in classifica non dobbiamo crederci noi perché dobbiamo ostinarci a vedere solo il lato negativo delle cose perché non ci vogliamo fidare di una dirigenza nuova di un direttore sportivo nuovo che lo ricordo non ha scelto lui il tecnico precedente quindi anche questo non gli può essere imputato mentre può essere imputato magari alla dirigenza questo assolutamente sì dirigenza alla quale però non possiamo imputare gli errori precedenti sul mercato estivo ad esempio ma detto questo la domanda rimane perché io continuo a crederci nella salvezza continuo a credere che fino a che la matematica non mi smentirà e spero che non mi smentisca parentesi io se è giusto crederci in questa salvezza se è giusto come dice sabatini andare tutti insieme verso la salvezza e tutti insieme significa tifosi significa giocatore significa staff tecnico significa dirigenza significherebbe anche giornalisti ma questo è un discorso che molti di cui molti sono già mandati non voglio entrarci appunto perché sarebbe forse andare andrei solo a complicare il video mentre il concetto deve essere molto semplice molto sintetico quindi l'ambiente si deve ricompattare tutto non nel dire siamo già salvi questo sarebbe l'esagerazione a contrario ma nel non dire siamo già retrocessi che è diverso bisogna credere di poter arrivare a quella salvezza poi se non ci servirà si faranno le valutazioni del caso e su questo non c'è dubbio e su questo non c'è dubbio me lo sentirete dire anche stasera in live ve lo dico già questa cosa qua forse la dirò anche stasera in live quindi proprio perché sono coerente con quello con quello che penso che ho sempre pensato detto questo io non fatemi sapere cosa ne pensate qui nei commenti vi ho già detto condividete il video mettete mi piace del video iscrivetevi al canale mettete cliccate la campanella per rimanere giornati io vi aspetto questa sera è il 17 di gennaio quando sto registrando alle 20 e 30 live reaction di fiorentina genoa qui su youtube ma anche sul mio canale twitch del genuano tipico e sulla pagina facebook detto questo una buona giornata un buon proseguimento di giornata dal vostro genuano tipico